Conferenze di fine anno alla CIA di Alessandria per fare il punto sull'attività sindacale dell'organizzazione, sull'attività della consulenza tecnica e la solidarietà oltre che l'apertura verso la cittadinanza attraverso numerose iniziative. Ma cominciamo dall'annata agraria. Come è andato questo 2017 per gli imprenditori agricoli della provincia? È un'annata, come tutti gli anni, impegnativa. Poi quest'anno in modo particolare abbiamo iniziato con le gelate primaverili, abbiamo subito la siccità, abbiamo fatto i conti a fine anno con l'alluvione del 2016. Insomma, è stata un'annata molto impegnativa dove la natura ha dato tanto all'agricoltura, ma l'agricoltura ha subito almeno due aspetti. Uno è il regresso di alcuni prezzi a livello di mercato, non tutti in realtà. E dall'altra parte la grande patologia trasversale che sono gli ungulati, che ormai non stiamo imparando a conviverci, ma comunque dobbiamo continuare a sopportarli. L'organizzazione si basa su un sistema di rappresentanza fatto di imprenditori agricoli anche sulle varie zone del territorio. Una rappresentanza che è stata proprio in questi giorni rinnovata. Abbiamo provato a rappresentare un po' tutti i settori dell'organizzazione, che vanno dall'agriturismo alle vendite di retta, i cereali, la viticoltura e tutto quanto tiene insieme l'agricoltura. Direttore, quali sono i principali impegni del 2018 tenendo anche conto dell'apertura verso il territorio e la città? Allora, innanzitutto il nuovo ufficio del Cristo. Il nuovo ufficio del Cristo è un ufficio dedicato principalmente ai servizi alle persone, quindi al patronato e al CAF. è aperto già da un mese in piazza Ceriana e gli svilupperemo un'attività principalmente svolta per il territorio e per quel territorio e per quel pezzo di città che è molto importante. Ma un grande sforzo del 2018 sarà dedicato ai giovani e all'innovazione. La svilupperemo in gran parte con l'università. E nel frattempo continua anche il confronto con le istituzioni a tutti i livelli. Sì, oggi noi abbiamo problemi che riguardano la vita delle nostre aziende nelle zone dove l'agricoltura è minacciata, lo dico anche se il termine può apparire pesante, minacciata dall'invasione di animali, di fauna selvatica incontrollata. Noi non ne chiediamo la distruzione ma il contenimento e con le istituzioni, in particolare con le istituzioni regionali per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale. È un pochettino lento nell'apertura dei bandi e ha creato anche qualche problema nei bandi aperti per quanto riguarda una burocrazia un pochettino eccessiva.